Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi, Super Star Saga più scagnazzi di Bowser Nello scorso video sono arrivato alla Laguna Sorgnona, ho fatto amicizia con le sorelle Medusa e mi hanno dato una nuova abilità per le mani Queste due qui che vedremo sicuramente oggi, anzi seleziono già la spinta perché mi servirà per superare questa parte qui Che in realtà sembrano piuttosto tranquilli questi cilindri puntuti, quindi io quello che vorrei fare è così, mi metto così Guarda, vedi, 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 eccolo qua In realtà da quello che ho capito, come in ogni Super Mario, bisognerebbe utilizzare la tecnica di Luigi, che è questa qui Per spostarci poi per conto nostro, in realtà non funziona, cioè non funziona con me Con gli altri sicuramente funziona, ma io sono speciale Oh, eccola qui questa Questa invece bisogna per forza usare la tecnica di Mario Eccolo qua, fatto Perfetto Allora, questi qui non li affronto Perché sono tosti da mandare KO E ne crea... ah, ricarica la vita, certo Allora, in realtà, sì, sono tosti da mandare KO, dicevo E bisogna mandarli KO insieme, quindi preferirei evitare di perdere tempo Dunque... no, stai buono, Lidu Se evitassi di andare a sbattere contro sti cosi, però Beh dai, che avevo saltato in tempo, su Ma io salto, perché non saltano? E tu mi dici, beh, è normale Andrelink Se tu non premi il salto in tempo, loro non saltano Ma io lo premo in tempo È quello che non capisco Io lo premo, ma non va Oh cielo Provo a mandarne KO, vediamo che succede Magari poi riesco a mandare KO anche l'altro Guarda, se mi colpisse uno ciascuno Sarebbe meglio, perché magari potrei fare un danno uguale Oh, allora Ah, non l'ho colpito quello E ricarica la salute all'altro, che non ha perso letteralmente nulla E questo se ne va Ora lui che fa, però? Ah, facciamo l'attacco fratelli per evitare che Possa creare un'altra copia sua 27 Ah, ok Mi sembrava di che male succede Ok Si è ricaricato la salute sua Meglio così Oh Almeno posso dire di averli sconfitti Un paio di questi qui E non dando neanche tutti quanti sti punti esperienza Quindi alla fine Affrontarli non è che valga la pena proprio tanto, eh Allora, a quel punto lì non posso ancora farci niente Ehm Non so se qui può servire Mario o Luigi Andiamo un po' O Mario o Luigi Forse ne sono dei due in realtà Ma nessuno dei due Vabbè Andiamo un po' Ah, questo viene resettato Ehm Aspetta Ehm No, non mi portano i conti Strumenti misteriosi Blocco rotante Colpendo il blocco mentre si è in rotazione È possibile Volare nella stessa direzione verso cui si sta andando Ma è anche possibile finire in un luogo strano, capito? Nel momento in cui ci si è allontana dal luogo Il blocco ritorna alla posizione di partenza È un blocco del tutto particolare Non ho capito niente Mentre si è in rotazione Ah, certo Quindi da qui Ah Ah Beh, 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 beh Istruzioni poco chiare Fungos Quindi se mi allontano troppo Questo se ne va per i fatti suoi Giustamente direi Ah, resettiamolo un po' un attimino Voglio provare a fare una cosa Non so perché voglio venire qui Ma lo voglio Tu dici che ci fai qui Niente in effetti Faccio il ghigno E No, non posso andarci da nessun'altra parte Veramente a parte che di qua Quindi niente Torniamo Qui, dai E andiamo di qua Ah Ok Di qua non ci posso andare Quindi Devo andare solo Qua Wow Non posso però fare niente Se non andare di qua Aspetta però Qui cosa ho? Si ricollega di qua Ah Wow Ah, era la parte superiore Ho capito Va bene Fammi vedere bene Cosa c'è da fare qui Allora potrei andare O qui Ah Perfetto Allora facciamo così Se ho capito bene Posso portarlo qui E poi in là No Però un po' troppo No Resetta Resetta Il modo per farlo però c'è Allora Vado qui Faccio così E poi faccio così E poi faccio così Bene È molto semplice Dai Ok Andiamo qui Poi Potere di Luigi Ta 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 Olè E qui abbiamo Risolto Qui sopra Sembrerebbe Ci sia altro Ma Non sono molto Fiducioso No Non c'è altro Lì dai Bene Che abbiamo fatto Allora Il fatto che mi faccia salvare Mi fa presagire una lotta Anche perché non posso continuare Senza però prima Sbloccare Tutta quanta La piattaforma Giusto E devo andare di qua Salve ragazzi No Non c'è trippa per voi Oggi State buoni Oddio Gli squali Voglio andare qua sotto Prima va Wow Pieno 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 di roba Qui Ok Ah no Vabbè Allora Aspetta Vai Fatto Lo stesso Molto gentile E a posto Possiamo andare Wow Volevo preparare Il martello No Luigi Non cadere Dai Eh Vabbè Se dovete attaccare Però non mi interessa E allora Devo aspettare anche Che appare A questo salta Quindi quando fa Il Ok Capito Posso solo colpirli Col martello Devo aspettare È avvelenato pure Allora E se di salto Posso anche saltare Ma che cosa Boh Ma vai E niente da fare Vai di che muover ora Eh ti pareva Eccolo qua Stai a cuccia Ah Questo salta Mannaggia Non è Non è L'ulto K Ah ok Però è Però è Ben Usare Gli attacchi Fratelli Almeno Facciamo Una cosa Più Veloce Ponte esperienza Buoni Non mi lamento Sì vabbè Neanche il tempo Di reagire Mi ha dato Ho premuto X Oddio Che amo Quello Pensavi Dai ragazzi Su Voglio vedere Che fa questo Attacca Mario Sì E poi Bumentelli Aspetta ti do Una cosa per te Bumentelli Come l'ha appiattito Ah ok Va bene E salto Se non lo becco Mi sa che torna indietro E devo schivarlo un'altra volta E poi colpisce lui Sicuramente Perché Lo evito Se lo evito Certo Niente Questi vogliono saltare Sopra Luigi Niente da fare Ma dai Ma Stessi punti di prima Pensavo un po' di più Anche qui si salva La faccenda Non mi piace Molto Perché tutti quanti Questi salvataggi Hanno messo Molti più punti Di salvataggio Rispetto Allo scorso gioco Cioè rispetto Alla versione originale Però Boh mi puzza Un po' la cosa Ah ok Non me l'aspettavo Questo Cosa Un altro Ma Con questi pochi secondi Come faccio Ma no Non è possibile Farlo Ehi Riproviamoci A parte che mi sono fermato Per sbaglio Per sbagli Vai Ok fatto Let's go Andiamo un po' qua E questo mi ricongiunge Di qua Allora Questi piccoli puzzle ambientali Che sono un po' più delle sfide Che dei veri puzzle ambientali Sono molto carini Oh e ci apre Non tutta la via Perché mi manca la strada sopra Da completare Che devo fare per forza Uras Allora Qua sopra in qualche modo ci devo arrivare Devo andare per forza qui dentro Sì Devo andare per forza qui dentro Tiri i fagioli Ok Le stelle marine sono quelle che più odio affrontare Sono davvero odiose Forse in un'altra vita Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luigi di livello! Mario però prende più punti perché... Mamma mia, punti salute Mario, fa davvero pena. Segreto, immagino. Tessera scottante, ok, mi piace. Ora. Qui? Tanti nemici, tanti. Troppi per i miei gusti, sinceramente. Ah, giusto per i nemici e per farmi arrivare qui a topo. Va bene. Sì, potrei affrontarli tutti, prenderei un sacco di punti esperienza, ma voglio andare avanti nella storia prima. Quelli posso sempre affrontarli dopo, no? Da solo. Ok, allora... Devo imparare a usare anche L, volendo. E' una mia impressione o a questo punto si ricongiunge... Esattamente qui, dove non potevo passare prima. Mamma, che è un albero di Natale? Ehi, gracchio, cosa ne penso di questo? Oh, hai davvero un buon intuito! Hello? Ehi, cosa c'è? Siete venuti ad aiutarmi con le decorazioni? No. Ehi, tuttina rossa, quei baffetti là! Potrebbe essere... Babbo Natale? Gracchio, cosa ti è successo? Ma che stava facendo quella là dietro? Cosa? A ben vedere i tuoi baffi, tuttina rossa? Non sarà che sei... Non sarà che sei... Oh, yeah! Quel salto, allora è vero! Sei Mario del Regno dei Funghi! Stupendevolissimo! C'è Mario del Regno dei Funghi! Basta con le decorazioni! Facciamo festa! Ehi, sei vero! Posso tirarti i baffi? Quel salto era proprio bellissimo! Più tardi mi vantterò con tutti, grande! Ma perché la signora dietro Mario si sta mettendo a posto il reggiseno? Sembra che si tenga il petto, quasi! No, le decorazioni di Gracchio! Ah, perché ha le braccia allargate, quindi... In prospettiva risulta diverso! E tu sei forse il segretario del Mario Fan Club? Aspetta un attimo, vestitino verde... Buffy? Non è che per caso sei il celebre fratello dimenticato da tutti? Luigi! Questa è un'occasione rara! Quanti anni hai? Maschio? Misura del Toracchi? Significa maschio, scusami! Vita ai fianchi? Cibo preferito? Per colpa vostra non ho completato le decorazioni! Smettetela di dar fastidio! Voi scellerati! Signor Gracchio, se era per la decorazione... Sappia che comunque manca ancora un po' a Natale, eh! Voglio dire... Che stafa quello là sotto? C'è tutto il tempo! Ok! Tre punti da colpire! Ah! Ok, ho capito! È meglio eliminare gli arti, giusto? No! Ha fatto la finta, ha fatto! Va bene, te la sei cercata allora! Ah, questo attacco colpisce tutto, però! Ah, non ho premuto A? Ah! In realtà, neanche mi si avvicina più di tanto! Cioè, non dovrebbe neanche prendermi! Proviamo il doppio martello, Luigi! Buono! Livello 26! Salto espulsione sulla cara destra, a parte di questo qui! Ripeto! Colpisce tutto! No, no, perché non prendiamo il tempo A? Ok! Una è fasciata! Quindi può colpire solo Luigi! Ah, com'è frustrante! Ora è meglio andare alla svelta! Uh, preso? Cioè, l'ho preso io? Interessante! Niente che alla destra ancora! Ok! Cioè, quello è alla sinistra, veramente! Ma, oh! Oh, ho premuto! Oh! Ah, senti, no! Non mi ricarico perché, sinceramente, mi ha un po' stufato, eh! Allora, super nocciole! Posso capire che ci sta a non capire il pattern di un boss appena incontrato, ma ragazzi, io... I pulsanti li premo! No! Oh! C'è nessuno in casa? Ehi, vabbè! Aspetta un po'! Un granchio... A fiamma viva? Oppure lo preferisci... Bollito... No, preferisci la fiamma viva! Uh, ok! No! Sì, non so perché è bollito con l'elettricità, però mi girava così! No, ragazzi! Bene! Ottimo! Cosa volete fare alla mia bella decorazione? Basta così, folli! Ah, hai capito! Oh, questa mi interessa molto ora... Sì, sì, sì... Ho ancora un bel po' di punti... Buono! Vai dentro casa! Vai, vai! Ah, ah, ah! Te lo scordi, amico mio! Aspetta, ti do una martellata sul guscio che con il martelletto si rompe meglio del guscio di granchio! Eccolo qua! Ah, acquisisce velocità, immagino! Allora, mi dispiace ma devo aspettare un attimo che devo far recuperare i punti a Luigi, eh! Mangia! Cioè, bevi! Oh, eccomi qui, ora siamo pronti! Oh! La chiesa go! Grazie a tutti. Oh, allora, che arrabbiato. Mi ricorda il fatto che io debba saltare quando lui mette la chela. Quando io mettevo la mano davanti ai cani e loro cercavano di mordermi, io la levavo all'ultimo secondo. È la stessa cosa. Certo, erano cani che conoscevo, però giocavamo in questa maniera. Ed è fantastico. Mi ricordo tantissimo quello. Oh, no. Ah, sto per finire anche i punti, ne ho pochi, però posso fare ancora questo. Ah, sto per finire anche i punti, ne ho pochi. Ah, allora sei recidivo tu, eh. Ah, sto per finire anche i punti. Non so quanto possa mancare ma non credo manchi molto Non so quanto possa mancare ma non credo Non so quanto possa mancare ma non credo Sì vabbè sempre con queste decorazioni abbiamo capito Oh eccolo qui dai Divisa scolastica mi piace Cioè mi piace l'idea di avere qualcosa di nuovo potenzialmente utile Scusate gracchio fa un sacco di confusione Scusate è colpa nostra A proposito voi due che cosa siete venuti a fare fin qui? Cosa è il fagiolo sulla conchiglia? Quel fagiolo è davvero una cosa così importante? Hai sentito gracchio? No era questo Beh allora non c'è scelta Un pezzo di fagiolo stella Pezzi mancanti tre La strada è ancora lunga E poi dopo la decorazione Ce l'abbiamo messa tutta Come ve ne andate di già? Non capisco perché non restate a rilassarvi un poco Le persone famose sono molto impegnate Lo immagino Se volete tornare indietro Questa è una scorciatoia Grazie signore Ah gracchio Grazie eh Se trovo un oggetto adatto Devo portartelo Ma forse sapete che È una sub quest non indifferente Chissà Non credo ma potrebbe anche essere Sì è una scorciatoia Che però mi devo aprire io Questo non l'ha specificato Ho lasciato alcuni fagioli Effettivamente in giro Ma Non penso che userò molto i frullati Devo essere sincero Ad ogni modo Per questo video è tutto Nel prossimo Vedrò il da farsi Sarà sicuramente andare a recuperare Un pezzo di fagiolo streo Da qualche altra parte Ad ogni modo In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti Link utili E ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.